buongiorno sono rossano venturini consulente immobiliare del gruppo remax oggi parliamo di due diligence la verifica di tutta la documentazione riguardante l'immobile da porre sul mercato è un processo fondamentale da affrontare fin da subito per evitare che la mancanza o anche solo l'inesattezza di un singolo documento possa vanificare una compravendita ormai conclusa la mancanza di un documento riguardante una pratica edilizia o catastale la provenienza dell'immobile da donazione successione l'esistenza di un usufrutto se trascurate potrebbero rendere l'immobile invendibile con una due diligence scrupolosa e tempestiva arriveremo a rogito senza intoppi ed in totale serenità ti ho incuriosito e magari vorresti saperne di più chiamami prendiamoci un caffè e ti spiegherò cosa posso fare per te per rendere la tua compravendita un successo